Si è svolto oggi l'incontro fra la dirigenza di Coppa Altogarde e i sindacati, com'è andata? È andata malissimo, nel senso che la direzione assistita dalla Federazione delle Cooperative Trentina ha rotto il tavolo delle trattative, nel senso che ha determinato una situazione per la quale o le organizzazioni sindacali accettano le imposizioni della Coppa, altrimenti non si può fare nulla. L'elemento di discussione è quanto viene dato o quanto non viene dato in termini di reddittività e produttività ai dipendenti. Noi crediamo che i dipendenti debbano essere valorizzati per la prestazione lavorativa che producono. Per l'azienda qualsiasi cosa va legata alla reddittività e alla produttività. L'elemento inaccettabile è che la cooperativa parte dal fatto che è in forte disavanzo, il bilancio della cooperativa è in forte disavanzo, si parla di 4-500 mila euro, e questo è sostanzialmente l'importo che la cooperativa vuole recuperare nei confronti di dipendenti. E' appunto inaccettabile perché se la cooperativa purtroppo va male dal punto di vista delle vendite, questo non è determinato dal cattivo apporto professionale ai dipendenti, bensì da scelte commerciali sbagliate alla cooperativa, che non sono di responsabilità ai dipendenti, ma di chi queste scelte commerciali le fa. Purtroppo abbiamo i 17 mila soci della zona, che sono tantissimi per la zona, che vanno a fare la spesa altrove e questo è inaccettabile che produca un risultato di negatività nei confronti dello stipendio ai dipendenti. È un problema che risulta essere trentino, la crisi delle coop, del site, del gruppo comunque cooperativistico. Forse anche la coop deve attuare dei tagli? Sì, evidentemente la cosa è anche larga, allargata rispetto ad altre realtà delle famiglie cooperative, questo è vero. Ma ripeto, la cosa sicuramente dipende da determinate scelte. Allora, al di là del ragionamento della piattaforma site, non piattaforma site, va bene, qui le potenzialità in zona ci sarebbero tutte affinché la coppa altogarda abbia anche una reddittività aziendale molto alta. Ribadisco il fatto che siamo, perché sono socio anch'io, 17 mila soci, però purtroppo buona parte dei soci va a fare la spesa altrove. E questa è la cosa da correggere, al di là di altri ragionamenti che sono tagli rispetto agli stipendi o tagli rispetto al personale. Iniziative nell'immediato futuro? È evidente che adesso, visto il tavolo della trattativa, noi dovremmo recuperare per riappropriarci di un tavolo di discussione di trattativa, per cui decideremo assieme ai dipendenti le iniziative per poterci riprendere il tavolo della trattativa, non escludendo evidentemente momenti di mobilitazione e di sciopero.